24 rapine in soli 5 mesi sono stati arrestati dalla Polizia di Stato due uomini di 38 e 33 anni, gravemente indiziati di aver commesso numerosi colpi all'interno di diversi supermercati di Milano e dell'Interland e una rapina ai danni di un compro oro, azioni criminali tutte consumate tra il mese di novembre 2020 e marzo 2021. Secondo i poliziotti la cadenza ravvicinata con cui sono state consumate le rapine e la particolare violenza e ruenza dei rapinatori ha destato particolare allarme sociale, soprattutto a causa della serialità criminale con cui mettevano a segno i colpi. L'attività d'indagine che ha portato all'identificazione dei due uomini ha anche permesso di ricostruire il metodo utilizzato dagli stessi nel compiere le rapine. Giunti a bordo di un'autovettura in prossimità degli obiettivi, uno dei rapinatori faceva ingresso nei supermercati indossando un cappellino, una mascherina chirurgica e uno scaldacollo fingendo di essere un cliente. Al momento di pagare la merce in cassa però estraeva dalla cinta una pistola semiautomatica Glock armandola e puntandola verso i dipendenti degli esercizi colpiti, impossessandosi dell'incasso giornaliero e dandosi a precipitosa fuga. Ad attenderlo, in ben 22 dei 25 episodi contestati, vi era poi il complice, in attesa, a bordo di una BMW intestata alla compagna, però del tutto estranea alle indagini. I due uomini sono stati rintracciati dalla polizia presso le loro rispettive abitazioni di residenza, ubicate in provincia di Milano.